La prima vittoria in campionato, la sua analisi della gara? Oggi è stata una partita dove la fortuna ci ha dato quello che ci ha levato un po' in queste partite. E' stata una partita che si poteva vincere, si poteva perdere, si poteva pareggiare, il Mataloni comunque meritava anche di vincere. Quindi è stata una partita aperta a tutti i risultati e fortunatamente è stata positiva per noi. Voglio fare una battuta che finalmente dopo un po' di tempo sono riuscito a battere a Lello del Mone, che è il presidente che era a due anni, che con Napoli al primo il paleto riusciva a batterlo. E poi un'altra cosa, ho chiesto ufficialmente alla società di far venire a te la Stato, perché è il mio portafortunio. Se devo vincere così va bene lo stesso. Proprio ti analizzo poi la partita seriamente, dico che comunque era una partita dura, si sa, il Mataloni è una bella squadra. Un campo piccolo dove si riesce a fare, insomma, si sa che arrivano numeri colitivi, dove l'episodio ti fa vincere la partita o te la fa perdere. Fortunatamente, ripeto, gli episodi sono stati a nostro favore. Ci prendiamo questi tre punti, ma dobbiamo dare un po' di continuità anche ai risultati al gioco, perché poi se facciamo questi tre punti e poi non vinciamo in casa, non abbiamo fatto niente. Grazie a tutti.